Ben tornati su CIPER TV. 11 aprile, giovedì, come quasi ogni giovedì, anche oggi un team WOD. Avremo team da cinque persone questa volta, le quali passeranno cinque minuti ognuna sulle stazioni previste e poi cambieranno stazione. Le stazioni sono One Arm Jerk, Slat Pool, Calories Kierg, D-Ball Clean e Farmer's Carry. Il peso lo scegliete voi. Buon divertimento e a domani per l'ultimo WOD della settimana.